Un anno esatto oggi da sindaco per Pierluigi Biondi, cose fatte e cose da fare. Il primo cittadino parla di un lavoro sotterraneo molto importante, sotto traccia per riorganizzare innanzitutto la macchina comunale, ma non solo. Sì, è un anno naturalmente in cui abbiamo fatto un grande lavoro oscuro di riorganizzazione della macchina comunale, di riattivazione di certi procedimenti che si erano bloccati, di riaverture di fascicoli che erano rimasti chiusi dalle scuole alla ricostruzione pubblica, dalle questioni del personale alle partecipate, dalla mobilità cittadina e quindi con il piano urbano, della mobilità sostenibile fino a aspetti importanti che riguardano per esempio il decoro urbano e la manutenzione del verde, degli spazi pubblici. Abbiamo avviato dei progetti che erano fermi da tempo, tipo quelli della demolizione di San Gregorio, quella della futura demolizione delle case popolari in mia di Vincenzo, a breve partiremo anche con l'abbattimento delle magistrali. Insomma, abbiamo fatto un lavoro secondo me importante, faticoso naturalmente, fatto di grande impegno e molto spesso sotto traccia. Però io come faccio sempre la metafora, una casa fin quando si fanno le fondamenta non si continua a vedere, sul piano non si vede niente, però si costruiscono le cose importanti su fondamenta solide. Non ci sta alle critiche di mobilismo da parte dell'opposizione, replica anche all'ex sindaco Massimo Cialente, che proprio in queste ore ha postato sui social un pensiero su un anno di biondi, rifacendo ancora una volta il paragone tra l'Aquila e Villa Sant'Angelo, comune amministrato in passato da biondi. No, non ho tempo per vedere Facebook né il divertissement di pensionati che hanno molto tempo libero e l'immedio da questo punto di vista. Cialente ripete spesso questo refrain e lui quando dice l'Aquila e Villa, io ripeto, purtroppo, che a Villa Sant'Angelo c'è una ricostruzione che è avviata, è il primo comune del cratere rispetto alla percentuale ricostruzione fatta. Ci sono tasse bassissime, non c'è la Tasi, non c'è l'addizionale IRPEF, l'Atari è un terzo rispetto a quella dell'Aquila, quello è un modello ed è un obiettivo, poi che sia più complesso amministrare l'Aquila, questo è evidente, ma mi sembra ci sia un po' una spocchia generazionale in questo modo di fare, di gente che è rimasta fuori dai giochi, che ha provato anche recentemente a rientrare in pista con una bocciatura sonora da parte dell'elettorato, che è sempre sovrano e quindi evidentemente passa il tempo sui social, io passo il tempo sulle carte e sulle cose da fare.